Individuare un percorso per i dipendenti pubblici alle luce dei recenti cambiamenti che interessano l'intero settore in una realtà come quella dell'Aquila dove la fase della ricostruzione della cosiddetta filiera è strettamente legata agli scenari di rinascita dei centri storici. Di questo si è parlato nel corso di una folata assemblea nei giorni scorsi presso l'auditorium di Renzo Piano nel corso della quale si è tentato di intavolare una strategia sia per il personale che dovrà essere riassorbito dalle province sia per quello dei cosiddetti UTR, uffici nodali per la ricostruzione. Sindacati e personale del comune capoluogo e del cradere a confronto per un piano a lungo termine, come spiega Rita Ennocenzi della CGL Funzione Pubblica. Noi ci siamo lasciati con il tavolo della ricostruzione quando abbiamo ragionato sull'articolo 11 del decreto antilocale con tutti gli attori sociali del territorio ci siamo lasciati con l'impegno di convocare subito un tavolo sempre incardinato presso la regione Abruzzo che discuta del personale della filiera. Io credo che quel tavolo vada immediatamente convocato perché noi abbiamo a questo punto con la serenità necessaria il bisogno di affrontare tutto il problema del personale perché abbiamo persone assunte col concorso RIPAM a tempo indeterminato che non sono ancora in pianta stabile all'interno del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere degli UTR. A questo personale noi dobbiamo dare una risposta è interesse o non è interesse del territorio che queste persone che si stanno formando qui all'Aquila che restino a vivere in questo territorio ci sono anche molti aquilani che sono assunti a tempo indeterminato non possiamo permetterci che nel 2021 vengano disperse queste professionalità.